Salve a tutti, sono Ducadombra e non credo che ci sia bisogno di sapere chi si cela dietro questo alter ego musicale. Credo invece che sia di qualche interesse spendere due parole sulla ricerca che c'è dietro il progetto Ducadombra. Ducadombra è un trovatore moderno che utilizza per creare un suo linguaggio musicale strumenti moderni, tecnologici ed elettrici insieme a strumenti antichi ricostruiti su antiche iconografie. Trovatore dall'antica etimologia della parola, trovatore è colui che aggiunge qualcosa di proprio e di originale su delle strutture preesistenti molto antiche. una proposta musicale molto molto particolare perché è una proposta musicale molto particolare Verità e Inferno ha un testo anche molto particolare, un testo a volte rabbioso ma è anche un testo che parla di una speranza, insomma una speranza in qualche miglioramento. In questo modo sono costruiti i testi dei poeti trecenteschi con questa struttura ritmica, con questa di rima voglio dire e anche con questo modo di essere, di lanciare un messaggio conciso, breve e molto forte. La musica è una sorta di elaborazione delle melodie melismatiche del medioevo, ecco io infatti il mio genere lo chiamo melismatico, musica melismatica, proprio perché la sillabazione delle parole che io canto è una sillabazione su lunghi melismi, cioè lunghi passaggi di note. E credo che questa è una caratteristica della musica antica italiana, che non appartiene né alla musica americana né alla musica inglese né alla musica francese, non al blues, non al jazz ma appartiene solamente all'Italia. L'unico problema è che è dimenticata.